Il 25 entrano in vigore le sanzioni su quello che è il GDPR, il regolamento europeo in tema di privacy. È sicuramente un regolamento che guarda il futuro perché tutela quelli che sono i dati personali di ognuno di noi, la privacy nel vero senso della parola, quindi con la privacy e anche una corretta applicazione e con fronte di tutti i social network, di tutti quelli che sono gli abusi che ci sono stati fino ad oggi. Facebook, il caso Facebook e analitica hanno portato l'attenzione sulla privacy perché finalmente si è capito che si ha anche il diritto e chi viola quelli che sono i diritti dei singoli possono essere sanzionati anche duramente fino a 20 milioni di Euro oppure fino addirittura al 4% del loro fatturato. Io sono un avvocato penalista, credo che anche le sanzioni penali debbano comunque coesistere e proseguire a fianco di quelle che sono le sanzioni amministrative per un profilo di tutela effettivo. Possiamo immaginare che Facebook, per dire, possa avere interesse a massimizzare i propri profitti anche al di là di quella che è la sanzione amministrativa perché potrebbe guadagnare ben più di quella che è la sanzione amministrativa. La deterrente penale fa sì che possa in qualche modo essere invece arginato quello che è lo strapotere di queste mass media. Facebook, ma non solo Facebook, che in questo caso è stato, come dire, preso con le mani della marmellata. Quindi sono molto favorevole l'introduzione, ovviamente ci saranno dei periodi di prova in cui tutti noi, come primi professionisti, dovranno adeguarsi a questa normativa con dei modelli adeguati e delle procedure che consentano appunto il trattamento corretto del dato personale.